Come detto, l'acqua col tempo può modificare gli equilibri statici del terreno e conseguentemente compromettere la stabilità della fondazione. Geosec elimina i cedimenti grazie alle iniezioni di resine che consolidano il terreno. Abbiamo sviluppato in esclusiva un avanzato procedimento di consolidamento del terreno, supportato dalla tecnologia geoelettrica tridimensionale di ultima generazione, integrata alla prova meccanica penetrometrica, per ricostruire il modello geologico del terreno sotto alla casa prima, durante e al termine delle iniezioni. Ma come funziona questa innovativa tecnologia di intervento? Inviando corrente elettrica nel terreno, mediante piccoli trasmettitori, se ne misura il passaggio nel sottosuolo. I geologi Geosec seguono corsi specialistici di addestramento per interpretare e correlare al meglio, caso per caso, tutti i dati raccolti. Con la tomografia elettrica si rilevano migliaia di misure di resistività per ogni iniezione e in questo modo sarà possibile individuare, prima delle iniezioni, quei volumi di terreno porosi, umidi e bagnati, che spesso sono con causa dei cedimenti. Si potranno inoltre riconoscere perdite fognarie e ristagni d'acqua, dilavamenti del terreno e cavità sotterranee. La misura della resistenza meccanica del terreno sarà poi ottenuta con una prova penetrometrica che verrà eseguita nei punti più significativi indicati dalla tomografia elettrica. Sovrapponendo infatti tutte queste informazioni si potrà ricostruire il modello geologico del terreno sotto la vostra casa, prima, durante e al termine delle iniezioni. Così facendo sarà possibile definire nel dettaglio il progetto delle iniezioni e successivamente mantenendo sempre in funzione l'impianto di monitoraggio verificare i risultati, i miglioramenti ottenuti grazie alle iniezioni, riduzione e allontanamento dell'acqua interstiziale dal terreno, riempimento dei vuoti, compattazione del terreno, un vero consolidamento mirato. Consolidiamo, mediante un procedimento di stabilizzazione del terreno di fondazione affidabile e avanzato, denominato Sea and Shoot HD. Le migliaia di dati raccolti nei primi anni di applicazione hanno destato enorme interesse presso la comunità scientifica internazionale al ventesimo congresso mondiale di geofisica a Denver, negli Stati Uniti. Ad oggi sono migliaia i clienti soddisfatti che grazie a Geosec hanno risolto per sempre i cedimenti della propria casa. Alla base di questa tecnologia c'è la resina Maxima, prodotta in esclusiva per Geosec con componenti ecocompatibili e certificati. L'Università degli Studi di Parma ha testato campioni di resina verificandone le caratteristiche meccaniche e di stabilità dimensionale nel tempo. L'Istituto Giordano ne ha verificato la perfetta compatibilità ambientale. Ogni lotto di produzione è sottoposto ad un rigoroso controllo qualità da un laboratorio esterno specializzato. Maxima è una resina scelta ad espansione lenta, che ben permea nei vuoti sotto alla casa, agendo delicatamente solo dove serve. Maxima è facilmente individuabile dal sistema di monitoraggio del terreno, così da permettere di iniettare in modo mirato, con la massima efficacia e senza sprechi. Ma vediamo ora come opera il team Geosec.